Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce il mio nome è Rossella Pani. Oggi parleremo in questo video di manifestazione nel rispetto del libero arbitrio degli altri. Questo perché? Perché bisogna tenere conto di tantissimi fattori. Io posso come creatore, creatrice, consapevole creare la realtà che io voglio. Ma gli insegnamenti dell'Arcangelo Michele, l'Arcangelo Michele è stato molto chiaro con me. Rossella, tu puoi creare tutto ciò che vuoi, ma abbi rispetto del libero arbitrio degli altri. Per quanto riguarda le creazioni mie personali, che riguardano solo me, non ho limiti. Io ho veramente infinite possibilità. Io posso chiedere tutto ciò che voglio, anche le cose apparentemente più impossibili agli occhi di tanti. Ma quando si tratta di manifestare uno specifico lavoro, una specifica persona o più persone che io intendo portare nella mia creazione, è importante chiedere il permesso, anche solo energeticamente, anche solo spiritualmente. Perché ragazzi? Perché se no noi smettiamo di seguire il flusso dell'abbondanza, che è un flusso di amore, perché amore significa il rispetto del libero arbitrio degli altri. Perché se no noi creiamo attraverso l'ego. vi sembrerà strano, perché su internet voi sentite parlare di persone che vi dicono di manifestare una persona specifica che è possibile. E io vi dico, certo che è possibile, perché quelle persone non hanno una protezione, quelle persone molto probabilmente non sono creatori consapevoli e quindi entrano nella nostra creazione. Ma la domanda è questa. Io ti pongo una domanda. Tu vuoi attrarre Giovanni o Matteo o Mario, voglio dire, tu vuoi attrarre una persona specifica nella tua vita o Giovanna, Maria, Elisabetta, voglio dire che sei un uomo, che sei una donna. Tu vuoi attirare una persona specifica nella tua vita perché sei innamorata, perché senti che quella è la persona giusta, perché ti piace, perché è troppo bella o troppo bello, e perché è così, è perché il tuo ego dice che così e quindi è la tua fiamma. Ragazzi, pensiamo alle fiamme gemelle che a tutti i costi vogliono attirare quella persona nella propria vita. Voi state forzando gli eventi e vi spiego perché. A me è successo, io ero ignorante, non sapevo, stavo iniziando con la legge dell'attrazione, io ho attirato questa persona nella mia vita, stava funzionando tutto, stava andando in maniera sincronica, piccolo particolare, ora a distanza di tempo mi rendo conto che quella persona non era la persona giusta per me, era una persona che potevo portare nella mia vita, potevo avere una relazione con quella persona, ma oggi mi rendo conto che effettivamente quella persona non è quello che io voglio veramente, perché comunque si cresce, si evolve e si diventa più consapevoli. Forse non hai bisogno di quella persona, forse tu hai bisogno dell'amore vero, forse hai bisogno di una persona che ti rispetta, forse hai bisogno di una persona che ti ama, forse hai bisogno di una persona che è giusta per te, non che si comporta come dici tu perché tu con le tue affermazioni positive vuoi che quella persona a tutti i costi si comporti in quel modo, anche perché col tempo se quella persona non è per il tuo massimo bene, comunque si allontanerà dalla tua vita e sarà un grande dolore per te, va bene? Dal punto di vista energetico queste azioni di manifestazione nel non rispetto del libero arbitro e nel seguire l'ego si chiama magia rossa, quindi sta a te, se essere un creatore consapevole che puoi creare l'uomo perfetto per te per la tua vita, puoi creare milioni di euro, puoi creare il lavoro che ami, puoi creare amici veri, puri e sinceri, ma che siano quelli giusti per te, va bene? Non ti serve quella cosa li specifica, potrebbe accadere che tu attiri quella persona, attiri quel lavoro e poi ti rendi conto che non è quello giusto per te ed è successo a me ragazzi, ripeto mi è successo sia con la cosiddetta diciamo ipotetica fiamma gemella e poi mi è successo anche attirando il lavoro che volevo, perché volevo, perché io volevo lavorare per quella compagnia, ho fatto di tutto, ho fatto manifestazione, ho creato la realtà che volevo e poi mi sono resa conto che quelle persone non erano le persone giuste per me, per il semplice fatto che operavano nell'ego, quindi ragazzi la domanda è tu vuoi creare quella persona specifica o vuoi creare l'amore vero? Però è possibile che tu senti nel cuore che quella persona sia la persona giusta. Allora cosa puoi fare nelle tue affermazioni? Prima di tutto io quello che consiglio prima di fare le affermazioni è lavorare veramente a stretto contatto con l'Arcangelo Michele, l'Arcangelo Michele corregge tutto ciò che è ego, ci libera dall'ego e ci aiuta a far sì che il flusso di energia fluisca liberamente affinché noi possiamo manifestare liberamente, essere creatori consapevoli nel rispetto del libero arbitrio e senza creare karma negativo. Parleremo anche di questo perché le leggi spirituali funzionano quanto la legge dell'attrazione, ok? Allora voglio dire se io voglio creare la realtà che io voglio, ok? Voglio creare una persona specifica e riesco con la forza a portarla dentro la mia vita e quindi ho una relazione con questa persona. Se questa persona non è veramente la persona giusta per me, magari riesco a trattenerla per un po', poi però succede qualcosa che l'universo la allontana da me, ma perché è giusto? Magari quella persona inizia a rendersi conto che non è veramente innamorata, era solo infatuata, era solo soggiogata da cosa? Dalla tua creazione. Si chiama magia rossa, l'ho già detto, e crea karma negativo, cioè vi torna indietro come un boomerang, perché voi non state rispettando questa persona, ok? Quindi il karma negativo esiste, noi quello che seminiamo torna indietro nei tempi divini ma torna sempre indietro. Però se io chiedo umilmente, umilmente, a Dio che io sono, alla sorgente di amore, e in questo caso io vi consiglio di lavorare con l'Arcangelo Michele che veramente vi può aiutare a fare chiarezza nei vostri sentimenti, nel vostro discernimento e così via, io chiedo all'Arcangelo Michele di aiutarmi a far sì, Arcangelo Michele ti prego, se questa è la persona giusta per me, aiutami a manifestarla nella mia vita. E io posso dire, ok, io lavoro per la manifestazione di questa persona specifica, però, caro universo, caro amore divino, parte di me che crea, inconscio, chiamiamolo come volete, ti prego, se questa è la persona giusta per me, fa che arrivi nella mia vita, se questa non è la persona giusta per me, fa che io mi accorga e possa lasciarla andare per la sua strada, dammi la forza di lasciarla andare. Insomma, mandate queste intenzioni pure di amore, cosa succede? Che voi poi potete lavorare sulla manifestazione, grazie perché io e Giovanni ci amiamo nel rispetto del suo libero arbitrio, grazie perché Giovanni mi ama, grazie perché Giovanni mi rispetta, grazie perché mi sento amata, pagata e soddisfatta, e questa è una relazione meravigliosa. Sapete che c'è anime meravigliose, che se Giovanni è per voi, arriverà a voi, ma arriverà grazie alla protezione sacra che vi consiglio dell'Arcangelo Michele e se non lavorate con l'Arcangelo Michele e mandate delle intenzioni pure di amore all'universo, a Dio, a Dio che è dentro di voi, all'inconscio, state pur certi che risponde l'amore, perché l'amore risponde all'amore. Se voi create fregandovene del libero arbitrio delle persone e criticando chi parla di spiritualità, dicendo che io faccio quello che mi pare, allora io ti posso rispondere con amore. Tu sei un abile mago, sei un abile maga, sei in grado di creare la realtà che tu vuoi, però sappi che quando non hai rispetto del libero arbitrio stai creando un karma negativo e non stai creando il nome dell'amore, stai creando il nome dell'ego, cioè come un bambino, una bambina monella, il nome di questo io voglio il meglio, il meglio per me. Questo è importante ma ve lo dico con amore, per esperienza. Pensate che dopo che io ho avuto queste delusioni ho attratto l'uomo che volevo e stavano per accadere cose che poi l'universo non ha voluto, a qualche livello sono stata protetta, va bene, però questa persona si stava avvicinando a me e mi sono resa conto che non era per me e per fortuna, per carità di Dio voglio dire, e questo lavoro che io volevo a tutti i costi non era per me. Quindi la delusione grande di aver manifestato quello che volevo ma che non era per me. Quindi è importante, ripeto, quando ci sono altre persone coinvolte chiedere nel rispetto del libero arbitro di tutte le persone coinvolte. È consigliabile fare sempre prima delle affermazioni positive o dello scripting o della visualizzazione una preghiera di protezione. E quindi, care anime infinite, questa protezione benedetta ci vuole, ma ci vuole come? Ci vuole nelle vostre creazioni personali e ci vuole anche quando voi, nella vita di tutti i giorni, a prescindere perché sapete che c'è, voi potreste essere vittime della creazione egoica di qualcun altro. State attenti, c'è poco da scherzare perché, ripeto, la legge dell'attrazione funziona. Cioè, per carità, l'universo comunque, in base a quello che io sono, a quello che io vibro, se io ad esempio chiedo dei clienti nel mio lavoro, le mie intenzioni sono, io voglio 100 clienti al giorno, un esempio, ma chiedo prima nella preghiera che arrivino a me le persone che hanno bisogno di quello che io offro. Ma cosa me ne faccio di persone che non sono pronte, che magari mi criticano, che magari non gliene frega niente, magari faccio due soldi, ma quelle persone non sono neanche contente. No, io chiedo le persone giuste per me, ne voglio mille al giorno, ne voglio 100 mila, ma che siano giuste per me e che stanno cercando quello che io sto offrendo. Ragazzi, sono intenzioni pure. Vince sempre che cosa? L'amore, l'amore, vince l'amore, il rispetto del libero arbitrio. Poi naturalmente, nel rispetto del vostro libero arbitrio, fate ciò che credete. Ci mancherebbe altro, il mio non è un giudizio, sono solo i messaggi dell'Arcangelo Michele che io ho ricevuto quando ho preso delle botte molto forti e mi sono raddrizzata. Pensate che poi per anni io avevo smesso di manifestare. Oggi ho ripreso, ma ho ripreso con maggiore consapevolezza. Io vi saluto, vi abbraccio e ci vediamo nel prossimo video di manifestazione. Un bacione, a presto, ciao! Ciao!